23 minuti, spero di rientrarci. Salve merdoni, bentornati sul canale dell'impero del cinema e bentornati o benvenuti alle impressioni a caldo, c'è già stato qualche video ma penso di non farli da parecchio, non mi ricordo neanche. Allora, IT capitolo 2, non mi perdo troppo in chiacchiere inutili perché avrò da parlarne al vomito, questo è un video proprio introduttivo di una serie che farò, che culminerà con un video stile unicum l'esorcista, probabilmente tre volte tanto, quindi un colosso di video di tre ore che prenderà per argomento centrale IT in tutti i suoi formati, in tutte le sue trasposizioni, dal romanzo alla miniserie ai film, completamente mettendo a paragone i singoli elementi di tutti e tre i formati e cercando di capire quale dei tre, a parte che lo sappiamo tutti, è il libro, però cosa funziona e cosa no a seconda del formato. IT capitolo 2 Ho sempre aspettato di parlare di questa coppia di film perché volevo proprio aspettare il capitolo 2, capire come Muschietti avrebbe, o Muscheri, non ho capito di preciso ancora come si pronuncia sto nome, comunque chiamiamolo Muschietti, come avrebbe concluso il ciclo di questa sua opera. Per molti questa non è neanche un'opera, per molti questo non è neanche un film, per moltissimi questo è un insulto, un film indecente, indecoroso, bla bla bla. No, non è un film così terribile ragazzi, ha delle cose al suo interno che purtroppo non me le aspettavo assolutamente. Non soltanto non sono riuscito a digerire ma proprio le ho rigettate completamente. Fortunatamente non sono cose grosse, sono scelte di montaggio e non soltanto di montaggio a livello di tagli tra una scena e l'altra, perché il film, durando tre ore, arrivati a questo punto della storia, ricomincia come era consueto nel libro e come era di consueto nella prima parte della miniserie, qui si fa l'esatto contrario, la prima parte è concentrata sui ragazzi senza alcun flashback, flash forward, scusate, qui invece si va avanti e indietro in continuazione, si riprende la struttura del libro e purtroppo si incappa proprio in questa cosa, del ritmo frammentato, del montaggio estremamente violento che Muschietti per me fortunatamente, per quanto veramente sia violentissimo da recepire come montaggio, come interscambio tra un momento e l'altro, Muschietti riesce con delle transizioni registicamente parlando, studiatissime e spettacolari, veramente straordinari per quanto mi riguarda, ad ammorbidire la violenza dei tagli. Si sente che manca roba, si sente che nonostante la durata di tre ore c'è ancora qualcosa, si sente, si capisce, la versione integrale, non ho capito di preciso se da quello che ho letto sta tra le 4 e le 6 ore, quindi facciamo 5, c'è la possibilità che una grossa parte di queste scene tagliate riguardi proprio l'approfondimento dei 7 in versione adulta, come vivono, perché qui abbiamo veramente un 5 minuti più o meno dedicati ad ognuno che ti danno un abbocco, giusto un abbocco di quello che fanno da adulti, ma poi si torna subito a Derry e quindi la transizione è molto veloce, risulta troppo repentina e netta, avrei preferito un approfondimento magari di un, non lo so, non dico 10 minuti l'uno, comunque qualcosa di più, qualcosa di più, per tutti quanti loro. Fortunatamente gli interpreti compensano in questo, forse l'unico personaggio che ho visto interpretato in modo un po' più anonimo è il personaggio di Ben, nonostante la somiglianza, il taglio degli occhi con la sua controparte giovane e in carne, siano impressionanti, il lavoro di casting che è stato fatto è veramente alluscinante, si vede anche che gli attori adulti si sono studiati le interpretazioni dei bambini, Bill Hader straordinario, c'è addirittura una cosa in più su Rishi che non ha effetto sulla trama, non ha effetto sugli altri, quindi non gli viene neanche rivelato agli altri questo piccolo dettaglio che ci viene dato su Rishi Tosi era un certo punto che è veramente molto molto interessante e che serve soltanto a noi per capire certi atteggiamenti di Rishi durante il film, capirlo di più, non prenderlo come abbiamo preso la sua controparte giovane e basta, andare un pochino più a fondo risulta per me il personaggio più riuscito, Hader dà un'interpretazione che è carica di umorismo ma allo stesso tempo è molto intensa nei momenti drammatici per quanto stamperi con molte battute ma si parla di Rishi Tosier, per il resto la prima ora e un quarto, ora e venti l'ho trovata stupenda, stupenda l'intro, l'apertura, non mi aspettavo di vedere quella scena, allora quando ho letto il libro per la prima volta prima ancora del trauma di Giorgi, che l'avevo già vissuto in sostanza perché ho visto la miniserie prima di leggere il libro, intorno ai 8-9 anni più o meno ho visto la miniserie poi tra gli 11 e i 12 ho letto il libro per la prima volta, poi l'ho riletto tra i 17 e i 18, 18 e 20, non ve lo ricordo comunque, prima del trauma di Giorgi, su pagina, nelle prime 30-40 pagine del libro c'è un interrogatorio di un poliziotto ai danni di un bullo che non fa parte del gruppo di Bowers un altro gruppo completamente di bulli, che ha pestato a sangue una coppia omosessuale nel ponte fuori dalla fiera e poi scaraventato giù dal ponte uno dei due, che viene preso e ucciso da Pennywise la scena è identica al romanzo, tralasciando il cambio di epoca, è realmente identica è come me la sono sempre immaginata io e quella è stata la scena che per prima mi traumatizzò nel libro non tanto per Pennywise, per quello che fa, per come uccide il povero ragazzo interpretato da Xavier Dolan, non me l'aspettavo di vedercelo, sono stato contento comunque fa una bella parte, ora non mi ricordo il nome del personaggio perché nel libro c'è nome e cognome, ora però non mi ricordo quello che mi scioccò la prima volta che l'ho lessi fu la brutalità del momento la brutalità e l'ingiustizia del momento la discriminazione sulla base del proprio orientamento sessuale seguita da un pestaggio del genere quando si hanno 10-11 anni vi posso assicurare che è tosta, ma veramente veramente tosta e qui Muschietti la rende benissimo, il film parte con questa violenza brutale con questa scena veramente intensa e disturbante anche nel finale dove vediamo comunque esplicito lo smembramento anche il masticamento che dà fastidio, molto fastidio la scena è veramente bellissima e presuppone un filmone, non lo è purtroppo questo è il film che aspettavo di più da tutta la vita in quanto It è il mio libro della vita, il libro che mi ha avvicinato alla lettura il libro che durante la lettura delle ultime 3-400 pagine quando proprio si arriva alla catarsi finale io non pensavo ad altro che voler un film un film serio con il rito di Ciud, con tutte le cose metafisiche senza necessariamente la tartaruga e l'altro so perfettamente che sono anticinematografiche ingiustificabili da presentare in un contesto del genere sarebbe veramente una cosa troppo troppo straniante fare tutto per filo e per segno vuol dire veramente creare un trip che è troppo troppo per essere commerciale veramente troppo a livello cinematografico a livello letterario ci sta perfettamente è la sua materia è la sua forma reale quella in cui funziona al 100% si conferma la mia teoria che purtroppo il capitolo 2 la seconda parte del romanzo la parte da adulti nel romanzo come anche la seconda parte della miniserie come anche il secondo capitolo di Muschietti dà la conferma che la seconda parte del romanzo è difficilissima la più difficile da adattare in quanto non si presta al formato audiovisivo perché vive di simboli e quando vivi di simboli su carta funzionano in un modo quando li devi mettere su schermo e trasportarli, tradurli adattarli su schermo purtroppo per come succede la maggior parte delle volte con King non soltanto qui più o meno questo film soffre degli stessi difetti della Chiappasogni più o meno cioè ci sarebbero anche delle cose ottime ma ci sono anche delle cose talmente stranianti assurde e ridicole che si fa fatica veramente a capire perché perché nella Chiappasogni durante la lettura del libro quando trovano il malcapitato in mezzo ai boschi lo portano nella baita e lui che sta malissimo comincia ad avere tutte le pustole in faccia comincia a scurreggiare prima poi di morire con il lano deflagrato da un alieno che lo svergina da dentro durante la lettura si fa simpatia o comunque fa è ilare questa cosa di lui che scurreggia mentre parla e non ce la fa trattenersi però durante la lettura per quanto strano per quanto grottesco per quanto ridicolo anche sotto certi aspetti ti puzza di qualcosa di marcio sotto sai che sta per succedere qualcos'altro e quindi sei teso e la vivi in modo molto pieno come se tu stessi lì quindi con la sensazione di voler ridere a uno che ti scurreggia in casa ma allo stesso tempo di capire che c'è qualcosa che non va e quindi preoccuparti quando lo vedi in pellicola la scena della Chiappasogni in cui c'è questa cosa io riso dall'inizio alla fine non c'è versi e secondo me qui non è neanche un problema di incompetenza di muschietti perché i muschietti forse in tutto sto puttanaio è quello che ci esce quasi meglio a livello tecnico senza considerare la fotografia che è meravigliosa senza considerare la colonna sonora che mi è piaciuta molto nonostante sia aggressiva molto aggressiva il tema base del primo torna in certi punti non sempre mi è piaciuta questa scelta le transizioni tra una scena e l'altra sono assolutamente bellissime studiatissime e il film risulta questo spettacolare non pauroso zero paura zero ma a me it it in generale anche il libro passati 14 anni per me è finita la paura per me non ce la cerco nemmeno più la paura ma è il film che è incassato l'horror che è incassato di più della storia del cinema e quindi e quindi questo a me che mi dà in più per valutare un film che mi deve far paura se è il più grande incasso ma che me ne frega ma nessuno fa un film con la certezza che diventi è il più grande incasso della storia del cinema e quindi devi fare qualcosa di ultra spaventoso Muschietti non è mica Eggerts Muschietti non è mica che ne so non è mica Tari non è secondo me è più un incrocio tra Del Toro Sam Raimi e questi tipi di registi ha uno sguardo molto elegante una costruzione delle scene altamente spettacolare e risulta questo spettacolare ed epico e comico purtroppo in certi momenti assolutamente ridicolo ingiustificabile allora io passo sopra qualunque stronzata passo sopra veramente a tante cose perché per quanto la seconda parte della miniserie sia una merda colossale io gli voglio un bene dell'anima quando ho letto il romanzo ero talmente influenzato che il volto dei sette per me restava quello della miniserie quindi per me quando leggo il romanzo i volti dei sette per me sono quelli della miniserie non quelli dei film anche perché non ho anche perché non ho più letto il libro e riesco a godermi anche la seconda parte perché avendo letto il romanzo so tutto quello che c'è dietro e la trasposizione di questa storia che io amo sono un grande amante di questa storia King è uno scrittore a cui voglio un bene enorme ma secondo me non è uno di quegli scrittori horror che si deve approcciare in un periodo della vita particolare particolarmente avanzato per me proprio l'età in cui ci si approccia a King sta tra i 12 e i 14 anni non è uno di quegli scrittori ce la fa tranquillamente a scrivere romanzi che mollano il suo sguardo dal ragazzo sul mondo e cambiano nello sguardo di un adulto quindi guarda il mondo con gli occhi di un uomo e riesce a scrivere romanzi che arrivano fino alla fine andando fino in fondo con la crudeltà nichilisti cupi neri ma in realtà King per chi lo conosce bene almeno io penso di conoscerlo bene potrebbe essere una mia opinione potrei sbagliarmi ma non credo King è un romantico ragazzi King è un sentimentale tremendo King è uno che crede fortemente nella catarsi crede fortemente nella rivalza nella rinascita anche per la sua vita per come è stata la sua vita ci sono degli aneddoti oscuri soprattutto nel periodo della stesura di Hit in cui la cocaina la faceva da padrone nella sua vita e si vede e si sente straborda è stravagante nelle scelte e quando vediamo le cose in immagini in audiovisivo ci rendiamo conto di quanto quelle idee che su carta si accettano una volta che prendono forma è assolutamente strano è assolutamente grottesco ed è tipico di King cioè questo film per quanto tradisca il romanzo praticamente in continuazione purtroppo è estremamente fedele nello spirito estremamente a prescindere che il rito di Shud mi sia piaciuto di più come ci si arriva piuttosto che come viene eseguito molto molto diverso ma molto molto diverso però a parte tutto questo non mi è neanche dispiaciuta la struttura di tutto il film perché è inevitabile fare questo se volete evitare di fare un flashback flash forward continuo per fare un'opera che non sia incasinata nel montaggio bisognerebbe fare per Hit per il romanzo una serie tv da boh non lo so 60-70 ore che parte dall'evento più antico e arriva fino all'ultima scena in ordine cronologico continuativo conseguenziale senza andare né avanti né indietro mai capite che questa cosa è infattibile e quindi in due film purtroppo questa è l'alternativa l'alternativa a un montaggio frammentato non esiste purtroppo per questa storia e se esiste devi tradire completamente gli eventi qui Muschietti non lo fa perché poi alla fine mi potete dire che vi pare ma tradisce questo tradisce quello sono loro che tornano Moe e Eddie e Moe e Stan quindi è la stessa cosa comunque il risultato non cambia ci sono però delle cose che sono inaccettabili allora Bill Skarsgård a me piace la sua interpretazione di Pennywise quando ha delle battute mi piace tantissimo ma veramente veramente tantissimo c'è addirittura una scena che non è non è utile ai fini dello sviluppo della trama è completamente distaccata ma mi è piaciuta moltissimo la scena con la bambina sotto le gradinate del campo da baseball è assolutamente interessante in quanto prende anche in giro la critica che è stata mossa all'interpretazione al trucco di Skarsgård nel primo capitolo alias che fa troppa paura per attirare un bambino qui la bambina reagisce proprio in quel modo e lui la raggira in un altro quindi mette un po' un cerotto in bocca a tutti e ricorda che comunque a prescindere da qualunque cosa anche nel romanzo c'è un'ipnosi sotto non è semplicemente un raggirare c'è un potere c'è un qualcosa una sinergia di robe intorno che stanno che attirano comunque come una falena i bambini e Muschietti ci va giù durissimo per quanto riguarda la violenza sui bambini non ti mostra i dettagli nello specifico ma ti suggerisce delle immagini che secondo me se stoppi se metti proprio stop in un momento preciso sono subliminali e arrivano e sono toste toste per un horror mainstream vedere due bambini morire malissimo così gli interpreti tutto sommato mi sono piaciuti tutti mecca voi molto bravo bill harder straordinario ma jessica shastain e tutti gli altri zai mustafa e tutti gli altri ora non mi ricordo il nome di quello che fa ben e di quello che fa stern però a parte questo andava tutto più o meno liscio fino a che ognuno tornato a Derry non ha un nuovo approccio con Pennywise in solitaria e andava tutto più o meno liscio fino a che non siamo arrivati alla scena di Eddie Kasberg allora io accetto tutte le smorfie di Skarsgård nel non recitato che sono troppo cioè sono veramente troppo non mi ha bene giocare con il troppo veramente troppo lo posso accettare come accetto anche nella miniserie come accetto queste cose qui in King sono comuni quindi non mi stupisco ma non non accetto che durante una colluttazione tra Eddie e il Lebroso Eddie abbia uno scatto di convinzione uno scatto proprio di forza di forza di volontà in cui afferra il collo del Lebroso e lo manda a fanculo acquista potere indebolendolo riesce a strangolarlo riesce a appiccicarlo al muro ha anche senso quello che succede cioè che il Lebroso per difendersi essendo Eddie un ipocondriaco gli vomita in faccia ha senso il problema è che Angels of the Morning della Newton nella vomitata non c'entra uno cazzo minchia nulla non ha il minimo senso desiste non è giustificabile in nessun modo ma che senso ma cosa cazzo mi rappresenta a me se uno durante un momento topico a un certo punto è così lui a un certo punto ha preso dal collo vaffanculo e il Lebroso fa parte il vomito just call me angel of the morning angel boom e torna l'audio cos cos cioè questi momenti what the fuck sto cominciando a pensare che Muschietti ce l'abbia un po' nel DNA come fuck you bitch quella roba lì quando si fanno la sassaiola nel primo questi momenti strani ma questo cioè io spero ma veramente ora sto sudando perché qui dentro c'è caldo ma spero veramente che questa cosa quel frammento di angels of the morning durante la vomitata del Lebroso venga eliminato completamente nell'on video perché non ha il minimo senso che esiste cosa ci voleva a togliere 5 secondi di canzone a lasciarci nulla non ci voleva nulla e ci guadagnava la scena di pesantezza no devi alleggerirla già c'è poche battute capito per alleggerirla allora il finale il finale boh ragazzi è un puttanaio è un puttanaio e mi dispiace perché questo film qui non è un troiaio completo c'ha tante cose buone ma veramente tante il problema sta in certi tipi di scelte che lo fanno inciampare mostruosamente nelle sue ambizioni e purtroppo è proprio questa la differenza tra The Nun e It tanti hanno detto The Nun in confronto è Orson Welles ma che cazzo ma The Nun in confronto a questa cosa qui risulta migliore soltanto perché The Nun non rischia niente questo film qui rischia tutto troppo inciampa sarrabarta prende le musate in terra ogni tanto si riarza e riesce a ringhiare forte e proprio per questo so di volergli già bene è migliore della seconda parte della miniserie chi mi viene a dire che non è così è un bugiardo in mente chi non mi venite a dire ma la miniserie scialla il pregio della semplicità è qui e là vabbè vabbè per me la seconda parte della miniserie me la ricorderò come il prodotto audiovisivo che più mette enfasi nella battuta tordo marrone per il resto per me può andare a fanculo anche per quanto riguarda tim carri che nel film c'è pochissimo e lo salva lui appelo per quello che c'è è l'unica cosa buona di tutta la miniserie tim carri che vince il confronto con scarsgard alla fine il finale non mi è neanche dispiaciuto però risulta secco troppo secco troppo come posso dire non lo so ma ma fatto sta benissimo sto film e allo stesso tempo è riuscito a farmi incazzare è difficile che io non accetti che proprio rigetti certe scelte ma perché non me l'aspetto e jumpscare a mitraglia mi è rimasto un minuto e mezzo jumpscare a mitraglia ma io non ne avrò contati 5-6 di quelli proprio tattici fatti apposta per spaventa facile per il resto non sono neanche dei veri e propri jumpscare quindi tutta sta mitragliata di jumpscare mi dispiace non l'ho vista come non ho visto neanche tutte queste eccessive battute sono le battute che vengono l'unica cosa è Eddie Eddie dal momento in cui si ritrovano al ristorante non si sa perché nei primi 15 minuti Eddie che cazzo vuoi coglione cazzo ridi coglione cazzo cazzo coglione questo è però di base non è un film terribile è un film da 6 e mezzo per me sufficiente ma per il film che aspettavo di più da tutta la vita non è di certo quello che speravo non è così terribile non credete a quelli che vi dicono che è un troiaio clamoroso il peggior film horror degli ultimi 10 anni non è vero assolutamente nulla però è un pastrocchio però è veramente un bel pastrocchio spero di vedere la versione integrale spero di capire quali sono le scene che mancano all'effettivo che ci sia un approfondimento della vita dei perdenti da adulti quando sono ancora separati che Mike non li richiama spero di vedere cose più non lo so spero veramente che elimini Angels of the Morning io voglio che elimini poi per il resto guardate se non ci fosse quell'Angels of the Morning sulla vomitata del lebroso io a questo film gli darei 7 ha perso un voto per quella cosa lì perché tutto il resto è più o meno giustificabile da un qualcosa quella no quella proprio non esiste ma perché è più o meno è più o meno